Al via il nuovo servizio di Helpdesk delle Camere di Commercio di Comoelecco in aiuto agli imprenditori che operano sui mercati internazionali in questa difficile fase di emergenza da Covid-19. Il servizio, promosso da Union Camera in collaborazione con Promos Italia, raggiungibile via email all'indirizzo emergenzacovid.it, offre alle imprese una prima assistenza alla soluzione dei problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale relativi al commercio con l'estero. Un supporto immediato per trovare risposte sulle nuove procedure connesse all'esportazione, alla logistica e al trasporto delle merci, oltre che sulle normative che alcuni paesi stanno introducendo per contrastare il contagio. Uno sportello utile anche per scoprire opportunità in mercati oggi meno toccati dall'emergenza, o in prospettiva nei paesi che per primi si rimetteranno in moto. Per questo il servizio si avvale anche della collaborazione di Asso Camere Estero e della rete delle Camere di Commercio italiane all'estero. Le informazioni aggiornate sui principali paesi partner dell'Italia sono disponibili sul portale sostegnoexport.it, dove sarà possibile anche trovare un calendario articolato di seminari informativi online per le imprese che partiranno nel mese di maggio.